Il Femme di Frumento Il Femme di Frumento Trasporto un poco di frumento per sfamare la famiglia, per acquisizione. Io che sei monagio? A me ha più di due sacchi di frumento mi ho portato a presidio e a chi decannano a meno una tonnellata è la satira, vero? Ma perché dobbiamo portare tutto all'ammasso? Noi ci lavoriamo e io ti sanno a picchiare tutte le cose. Ci sono le teste giuste, fidati. Cotocca possia, amore. Sì! Ti scherziate? Vi stanno ammazzare a tutte male! Grazie a tutti! Grazie a tutti!